E' stato il tuo sogno, è stato il tuo sogno fino a quando eri piccolo, quanti giorni hai aspettato guardando quella porta, sperando di segnare, sperando di farcela, e adesso sei lì, sei lì davanti, lei è lì davanti a te, tu sei lì davanti a lei, e vuoi solo segnare, mettere dentro la palla, come quando lo metti dentro, dentro una donna, è proprio bello, il calcio, il gioco del calcio, forse uno dei giochi più belli del mondo, forse il tuo gioco preferito, forse il gioco preferito di tuo padre, di suo nonno, e forse anche del suo bisnonno, il calcio, quella cosa che ti fa sognare, ti fa battere il cuore, ma anche fartelo diventare duro, come quando segna il novantesimo, una sensazione unica, il gioco del calcio, che roba bellissima, come quando conosci una ragazza, come quando lo fai per la prima volta, wow, che emozione, segnate sempre, mettetelo dentro, è la cosa più bella del mondo.